Gli uomini sono 299, le donne 300, poi abbiamo circa una quindicina di voti tra militari e i rappresentanti di lista, quindi siamo sui 614 che hanno votato, quindi una percentuale intorno al 73-74%. In linea di massima votanti maschili e votanti femminili si equivalgono, la percentuale è il 72-30 più o meno di presenza, quindi è abbastanza elevata, calcolando che è una sezione dove ci sono molti residenti all'estero, calcolando questi superiamo l'80% di presenza. Bianca. Bisogna ancora aspettare qualche ora per capire, soprattutto per le regionali, perché è un sistema elettorale abbastanza complicato, che ci sono la possibilità di votare un candidato presidente e una lista, e penso che secondo me la fase di spoglio sarà lunga e difficile anche per gli operatori.